Perché credo che la squadra abbia fatto una buona prestazione per come doveva giocare, ha cercato di creare perché non era facile, perché la Palmese ha fatto la partita giusta che doveva fare, quella che noi pensavamo che dovesse fare, si è chiusa bene. Noi nel primo tempo abbiamo stentato un po', nel secondo tempo credo che se c'era una squadra che poteva fare golla siamo stati noi perché credo che fino alla metà campo in su ci abbiamo provato, però ci sono queste partite assolutamente, fanno parte del calcio, l'importante è che mi è capitato anche di perdere queste partite. Per noi il nostro percorso era quello di continuare, abbiamo preso un punto, è vero che abbiamo pareggiato, però di queste partite ne verranno per noi e dobbiamo continuare. Gli infortuni vengono, come andava tutto bene per dieci partite, non male che adesso può succedere che è un periodo così, ci dobbiamo rimboccare le maniche, stringersi ancora di più, lavorare e cercare, ho sempre detto che comunque chi ha giocato meno poteva avere dello spazio. Ora chi sarà chiamato probabilmente ci metterà l'anima, giocheremo con il Messina che viene da due vittorie, quindi sarà una bella partita e andiamo avanti, noi dobbiamo andare avanti, l'ho sempre pensata così e continuo sempre nella stessa maniera. Dovevo levare il portiera, per mettere Felici dovevo levare il portiera, a che strada? Cioè, quando trovi una squadra che si chiude, più attaccanti metti, più ripartenze prendi, non è facile. Abbiamo cercato nel primo tempo di allargarli e poi Felici in questo momento, se non sta giocando è perché comunque non sta in condizione. È entrato Rizzopinna e non mi è dispiaciuto, è entrato bene, quindi questo gli va a merito, poteva fare anche gol. Quindi, ripeto, c'è da ricare ricare alle batterie, ai giovani, ho dato un turno di riposo a Craia perché ha boccheggiato tutta la settimana, dico, ma io penso, ecco, se andiamo a vedere forse come partita fuori casa, dove comunque abbiamo cercato di giocare, di creare, e tutto forse è stata una delle migliori perché altre partite abbiamo sfruttato il gol e poi la partita è cambiata. Oggi non abbiamo segnato, però la squadra ha continuato a giocare. E poi non prendere nessuna ripartenza con la Palmese, io credo che sia stata una cosa positiva perché a parte il colpo di testa finale, loro non hanno mai, ecco, quasi tirato in porta.